Da ieri, lunedì 18 novembre, è nuovamente aperto, con qualche settimana di anticipo rispetto al passato, il dormitorio invernale di accoglienza notturna per persone senza fissa dimora presenti nel territorio aretino. Il servizio, in piazza San Domenico ad Arezzo, è aperto ogni sera, festività comprese, dalle 20 alle 8. Per accedervi occorre un pass personale rilasciato dalla Caritas di Cesana, corredato da foto per una durata massima di 15 giorni. Si tratta di un servizio a bassa soglia che quindi intende dare una risposta e un'accoglienza a persone che vivono per strada nel nostro territorio o in alloggi totalmente di fortuna. L'accesso è molto semplice ed immediato. Un primo accesso è tramite la Caritas di Cesana, dove viene rilasciato dopo un breve colloquio personale e la presentazione di un valido documento di identità in cui si registrano comunque i reali dati anagrafici della persona, un testenone di accesso, un pass munito di fotografia, che consente e garantisce per la persona un pernottamento di 15 giorni consecutivi. Una persona che è sprovvista di pass e quindi anche di passaggio può presentarsi al dormitorio invernale e se vi è la possibilità di avere dei posti liberi prima delle 22.30 viene ospitato e invitato comunque in Caritas per adeguarsi, quindi per mettersi in regola con il pass. Abbiamo in totale 16 pass disponibili più due donne per un'accoglienza massima da 16 a 20 posti ogni serata. Qual è il bilancio della prima notte al dormitorio di San Domenico? Ieri sera è stata la prima serata di apertura del dormitorio che si protrarrà per quasi 5 mesi fino al 5 di aprile. Serata molto tranquilla con 8 persone che hanno pernottato qui in struttura. Serata veramente calma, tranquilla, persone molto disponibili. Per ora un basso numero di ospiti. Numero normale perché all'inizio del dormitorio e dell'accoglienza invernale è sempre stato un po' un fatto di bassi numeri inizialmente, e poi con l'aumento del freddo, con lo spargersi anche della voce, con una maggiore mobilità, i numeri aumenteranno di sicuro. A questo aggiungiamo anche il fatto che l'apertura essendo stata anticipata di tre settimane, è chiaro che ancora le persone che erano abituate a pernottare nei primi di dicembre non sanno ancora forse tutti la notizia dell'apertura anticipata del 18 di novembre. L'accoglienza invernale è gestita totalmente da volontari, quindi volontari che provengono da parrocchie, da movimenti, da associazioni o persone anche che in maniera singola e indipendente vogliono dare un po' del proprio tempo a perdonare agli altri queste persone che nella quotidianità le vediamo per strada ma che poi dopo sono lasciate comunque sempre a margine della società. In più anche la pulizia pomeridiana dei locali, perché sono locali che devono essere tenuti anche in situazioni generiche dignitose e decorose, è ad opera totalmente del volontariato come anche l'accoglienza notturna. Questo tendo a precisarlo perché è un servizio che rende la comunità protagonista e partecipe di questo servizio di accoglienza e di attenzione soprattutto nei mesi invernali. C'è da migliorare, c'è da renderlo forse ancora più incisivo ma comunque è un piccolo segno di attenzione. E su questa linea è nato quest'anno un passettino in più che è chiamato la dimora in collaborazione sempre con l'amministrazione comunale e i servizi sociali del territorio è stata aperta questa piccola sezione all'interno della nostra casa d'accoglienza San Vincenzo per otto persone che sono persone che non sono residenti nel territorio comunale o residenti altrove ma che da tempo sono stanziati nel nostro territorio e che utilizzavano il dormitorio invernale per periodi molto lunghi o quasi per la totale apertura. C'è una differenza perché si prova a fare un piccolo passo in più di inclusione, di accoglienza per queste persone non solo dandogli un'ospitalità ma facendole vivere anche una vita comunitaria all'interno di una struttura di accoglienza quindi con una leggera maggiore autonomia, con una maggiore anche vastità di orario e con una maggiore anche responsabilizzazione per cercare di promuoverle e di reinserirle nella società. Grazie. Grazie.